Ragazzi buonasera, mi sono dimenticato di dirvi una cosa che mi sono ricordato adesso e quindi ve la voglio dire. Cioè stasera ho mandato la richiesta per l'accredito per il Comic Con, quindi se me la danno, se mi accettano questo accredito ci vedremo tutti quanti al Comic Con, ok? Speriamo, speriamo, speriamo che mi accettano la richiesta di accredito, ok? Ciao ciao!